Ultima giornata di apertura a Trieste per il Museo Ferroviario che martedì passerà sotto il controllo della Fondazione FS. Un'operazione che va a intervenire su uno dei pochi immobili delle rive ancora bisognoso di manutenzione. Il futuro però regalerà alla città una struttura rinnovata e dalle grandi potenzialità. Maria Spezia. Cale il sipario, ma solo per un periodo limitato di tempo, sul Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, unico esempio di stazione di testa in stile Liberty. Martedì infatti avverrà il passaggio al patrocinio della Fondazione FS, ente dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e tecnico del gruppo Ferrovie dello Stato che ha già preparato un progetto di restauro delle parti dell'edificio rivolte verso via Giulio Cesare. All'accordo a cui parteciperà il Ministro dei Beni Culturali Franceschini sarà abbinato un evento del tutto particolare. Ci sarà un treno speciale che percorrerà la tratta intorno a Trieste con tra l'altro una interessantissima sosta e visita da parte del Ministro al Castello di Miramare e da lì si prenderà il treno per arrivare a Campo Marzio in museo dimostrando anche la possibilità di arrivarci in treno, un altro valore importantissimo per questo museo e quindi ci sarà la firma del protocollo. Il restauro, che con il recupero della parte museale richiede circa 3 milioni e mezzo di euro e un anno di tempo, sarà finanziato grazie al contributo del Ministero dei Beni Culturali della Regione Friuli Venezia Giulia e del Gruppo Ferrovie dello Stato, proprietario dell'immobile.